ciao sono bugato ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovissimo video io sono Luca conosciuto anche come Lucas e oggi volevo fare una bellissima cosa che oddio ho visto da altri youtuber cioè la sto copiando si posso dirlo che la sto copiando e spero finisca bene un minuto però scusate per tutto questo casino che è già stato momentaneamente allora oddio si vede malissimo aspetta un attimo sistemazione in corsa perfetto cosa voglio fare? perché si muove ha smesso di muoversi vabbè ok questo prima o poi lo finiremo ve lo giuro perfetto perfetto allora stavo dicendo anche questa qui che è la tua refel prima o poi la finiremo qua nuovo coso strano strano morto ci sono due colori due colori giallo blu azzurro come volete e nero vi spiego subito il perché non vedete questa registrazione qua è stata improvvisa allora facciamo tipo una cosa così si dovrebbe andare bene in lunghezza gigante ancora un po' due quattro ok perfetto allora lungo ancora un pochino di qua di poco adesso io voglio farvi vedere cos'è allora qua ci sarà l'entrata e l'uscita vorrei cantare ma ho paura del copyright chi ha già capito che cos'è buon per lui invece chi non ha capito lo capirà solo adesso se ovviamente io io faccio lo schifo a scrivere a scrivere papà qui non ha capito che cos'è E' una A e questo simbolo strano, aspetta un po' va, lasciamo un po' aspetta, eh? E' una cosa molto più facile da scrivere. E' una cosa molto più facile da scrivere. E' una cosa molto più facile da scrivere. E' una cosa molto più facile da scrivere il pezzo forte. Tanto che non so fare le A. Cioè, io posso fare questa roba. Dovrebbe essere stato scritto la Lucas Ikea. Tanto che mi sa che è venuto male. No, io tolgo la Lucas. Io tolgo la Lucas. Mmm, ai mia, ai mia, ai mia, ho un'ideona. Concegliamo anche Ikea. Ciao Ikea. Don't, not sponsor, letteralmente. Aspetta un attimo, va. Voglio fare una roba. Voglio fare una roba fighissima, guardate un po', eh? Così. Prendiamo questo e facciamo il contorno. Tipo fatto così. Anche qua. Belle. La Lucas Ikea. La Lucas Ikea. Ed è il mio nome di YouTube. La I è di Ikea. Poi qua la porta la faremo bene. Adesso dobbiamo un pochino stilizzarla a modo nostro. Così. È per forza blu. Dove essere per me solo blu. Guarda da guarda. Facciamo tac, 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 tac. Perfettino. Oh, è carino come inizio. Siamo già otto minuti e mi hanno fatto tutta sta roba. Più questo. Prima c'erano le scarite e ci sono messi a stilizzarla. Mi sono messa a stilizzarla. Ho sbagliato lato. Sono rimbambito. Ma tanto, tanto, tanto anche molto più. Allora, sono un pochino cocatarro, un pochino no. Al momento, questo video durerà un bordello. Spero vi piaccia. Scusate. Boh, voglio soltare soltanto perché è sera. Questo video uscirà domani mattina, ma quando lo registro vi avverto già è sera. Basta quel cavallo marotto. Ma violenza contro gli animali, ricordatevi? Doh. Ma sono dettagli questi. Qua lo facciamo così. Ma facciamo così. Ok. Voilà, abbiamo fatto tutta la zona. Con questa cosa qui che scende così l'ho fatta soltanto per fare questo. Perché secondo me è carino negli angoli. Io non ne ho voglia oggi. Sono stanco. E credo si senta anche abbastanza dalla voce. Ok. Ok. È una roba del genere. Perfetto, perfetto. È perfetto. Perfetto. È carino. Pici davanti. Guarda che è carino comunque. Ok. 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 Vabbè, allora. Giallo. Aspetta, guardate cosa faccio. Faccio tipo una specie di copertura tutta nera. Ok. Pec. Ancora qua. Voglio cantare ma non posso. Paura, copyright. Adesso prendiamo il giallo. Facciamo così. Perché così non si andava a mischiare con l'altro colore giallo. Non si capiva che c'erano i bordini alzati. Così adesso si capisce se è un romano alveare. Io non so quanto vedrete bene voi. Ho un'altra telecamera ma funziona malissimo. Che due scatole. Se mi sentite, se mi sentite diverso con le parole quando gioco a Minecraft, che è quando gioco a Fortnite, è perché a Fortnite dico con le parole e metto che non è destinato ai bambini. Qua metto che è destinato ai bambini così almeno possono guardarselo senza sentire insulti, cose brutte, cose varie. Quindi l'ho fatto per quello. Poi se c'è anche qualcuno che vuole guardarsi anche i video di Fortnite, se li guardo ho fatto il primo video per ora, il terzo video. Spero vi piacere, siamo a 13 minuti. Io ragazzi però, quando devo tipo fare gli stop, taglio, cose varie, stoppo soltanto il video e poi lo ricomincio quando serve. Qua lo lasciamo così che poi voglio fare una cosina bellissima. tipo qua, se facciamo una roba del genere, tac, 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 Anna di Traspa, tac, e che carino. Guardate che è bellino, dai. Guardate davanti così, poi dietro è tutto giallo-blu, giallo-blu, giallo-blu. Poi probabilmente anche qua mettiamo questo, bocchiamo un pochino in uno. Facciamo le finestre un pochino strane, dai. Aspetta. C'è quel quadro che non cuoso, oh. C'è. Uff, fatto Poi qua facciamo tipo una roba del genere Aspetta Tac 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 Quiere essere capire che cos'è è pazzesco doveva essere un cuore i vetri li voglio fare in vetro colorato perché è bellissimo il vetro colorato appunto proprio per questo diciamo che vetro rinforzato adesso sembra un pochino di più un cuoricino ci sono anche queste cose due che sembrano dei polmoni veramente questa cosa per costruire questa cosa questo cosa per costruire questa cosa ovviamente questo chiederà un botto di tempo quindi probabilmente potrebbe essere fatto in parti diverse quindi spero che vi piaccia questo chiedo soltanto due like due due vi prego due non ve ne chiedo 37 due per favore quindi bene ok ho fatto un attimo bloccato un attimo quando sono andata un pochino avanti voglio farli così i vetri secondo me è un modo carino per farli queste vetrate essendo che sono fatte tipo tutte opache quindi guarda così almeno è più carino guarda guardate guardate cavolo è vero adesso è ancora più grande buono yepy andiamo a riporto e tengo la stessa cosa mi sembrava strano che non andava bene e ho capito il perché era alto ancora uno in più in blocco voglio sapere se vi piace di più minecraft o fortnite cose preferite no violenza contro gli animali io non ho fatto niente probabilmente scriverò anche qualche libro perché oltre che ho voglia di scrivere io ho già tanti libri che sto iniziando a scrivere che si possono pubblicare a 14 cioè voglio vedere a 16 quindi mi ci vuole ancora un bel po' di tempo quindi poi spero vi piacciono i miei libri ovviamente saranno centrati su su minecraft e su altre cose su fortnite e altre cose mille altre cose tipo vi voglio spoilerare un libro no dai non ve lo spoilerò non ve lo spoilerò non ve lo spoilerò io voglio soltanto arrivare per ora 15 iscritti abbiamo raggiunto l'obiettivo di 10 a me saranno i 15 così poi pian piano forse appena arriveremo i 100 quindi ragazzi datevi di impegno così arriviamo i 100 vi dirò vi dirò sì cosa vi spoilerò il titolo di un libro e probabilmente potrei fare anche una potrei spoilerare anche una pagina quindi non si sa mai ragazzi ho fatto questa roba qui che poi il pavimento non sarà così ma bensì sarà così guarda qua si alza quindi ci sarà tipo un gradino solo in questa zona qui che farà tipo una roba del genere poi si alzerà e continuerà così quindi ora anche lì farò la stessa cosa no qui lo lascio dritto qua così perché non dà fastidio e iniziamo a fare il pano il pieno superiore e ragazzi vi dico una cosa ci vediamo quando ho finito ecco ho finito tutto l'interno il tetto adesso vi faccio vedere il tetto gli interni bisogna soltanto arredare e finire il pavimento mettere le porte già un cavallino ecco come si presenta l'IKEA all'inizio qua poi decideremo cosa fare quindi qua inizio già a delimitare le aree aspetta guarda anzi facciamo così qua mettiamo il banchetto del cibo invece qua solo la cassa oddio mettiamo concrete nero credo no calcio e struzzo non so come si indica questo qui è come si presenta giù invece di sopra si presenta così con un altro banchetto con cui tipo una specie oh Cristo questo santus ma la tecnica scomparsa questo dipistrallo pistrallo preso si ok perfetto ed è il rialzo che è stato fatto prima che è stato messo così in realtà qua poi ragazzi ci sarà la sala giochi appunto inizio a togliere un pochino di luci così so come fare due so due e come farla poi adesso è meno colorato ovviamente qua ci sono tutte queste cose messe così che bellissime appunto sentiamo che qua c'è anche questa qua poi continuerò a lavorarci ci vediamo nella prossima nella prossima nella parte 2 che continuiamo il lavoro ciao ragazzi alla prossima vi prego 5 mi piace no 2 mi piace scherzavo 2 mi piace così almeno capisco che vi interessa quest'IKEA che poi appena finiamo ho un altro progetto in mente vabbè tanto ormai che mi si muove da solo nel miracolo quindi ciao ragazzi